Con la consegna degli attestati di qualifica professionale alle 75 allieve che hanno concluso il corso di assistenti familiari, entra nel vivo il progetto Transcare, promosso dalla Regione Abruzzo e finalizzato allo sviluppo di un modello di intervento per la gestione dei servizi privati di assistenza familiare. L'iniziativa si basa sui risultati delle precedenti esperienze regionali, nazionali e comunitarie Transcare e punta a regolamentare il mercato locale dei servizi di assistenza a domicilio, sviluppando nuovi modelli di selezione, orientamento, formazione e collocamento per quanti intendono svolgere la professione di assistenti familiari. Di questo progetto qualche numero, c'è stata la formazione di 75 donne, perché poi ricordiamo che le assistenti di cura sono maggiormente donne, ma non solo, perché c'è anche una richiesta maschile rispetto se l'assistitore è un uomo. Su 75 formati, quasi il 50% ha trovato lavoro. Attualmente sono circa 3.000 gli assistenti familiari registrati nella banca dati, mentre 800 sono le famiglie in cerca di assistenza domiciliare. Lo strumento della banca dati, infatti accessibile a tutti gli operatori dei punti di accesso ai servizi privati, consente di incrociare domande d'offerta. L'intelligenza di questo progetto è aver usato dei partner istituzionali, quindi i centri per l'impiego, per esempio, ma anche gli ambiti sociali, per cui, come dire, una volta finito il progetto, le persone, sia le famiglie che hanno bisogno di assistenza, sia gli assistenti, possono rivolgersi ai partner istituzionali che comunque rimangono sul territorio. Grazie.